Voi non l'immaginate, ma io ho anche un telecomando per questo treppiedi nuovo che ho fatto le grandi spese. Questo è l'attrezzo iperprofessionale che uso. È arrivata la mia amica Jo e l'amica Cigo mi hanno dato un sacco di cose. Quindi faccio una cosa accumulativa e fra le cose che ho comprato io di recente ho dimenticato una al solito, vabbè, o le cose che mi ha mandato. Una parte di cose, parliamo di quelle mangerecce, una parte delle cose mangerecce da parte di Jo sono state già mangiate. Le ho divise da buona sorella con la mia panina, dei dolcini buonissimi e poi anche delle lingue di gatto che vanno inzuppate nel vino, ma io ho mangiato il coppato e il latte. Io ho ricevuto, ta 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 ta, ragazze, questi sono grandi risparmi e quindi fanno sempre ultra bene. Come ultra bene ho questo sapone. Io recentemente ne ho trovato uno dei provenzali qui all'olio d'oliva, l'ho tagliato a pezzettini e devo dire che mi piace anche come... ecco, sono nella camera da letto. Questo è il letto, questa è una parte del letto che tiene fresca, tiene il letto fresco. È una stuoia che fa fresco. Sto in camera da letto perché dice che i video nelle camere da letto, diceva Nelisa Superstar, danno più... cosa di sintetico, di protegge. Vabbè, questo è Mirto e Uva Rossa ed è il brand sapone biologico, non biologico... Ah, della saponaria, sì, anch'io ho una cosa della saponaria. Questo gliel'avevo chiesto io, l'argento colloidale. Di questo ve ne parlerò tantissimo perché una mia amica mi ha... e ho anche la pomata antibiotica, mi ha diagnosticato quello che io pensavo di avere, cioè pensavo di avere un piede d'atleta, che non c'entra niente col fatto di essere atleta, un atleta o meno. Ma invece mi ha diagnosticato la disidrosi. questo antibiotico sta facendo benissimo, proprio benissimo. E poi la ESA, invece, mi aveva parlato dell'argento colloidale che io non conoscevo e sta facendo veramente miracoli. È un all-purpose per tantissime cose e devo dire che sono contenta. e mi spiace non averlo scoperto prima. Come la Gigo è attenta a tutto, ovviamente ormai c'ho scorta della Garnier e mi ha mandato l'acqua micellare bifase. Strucche, detergente, tutto, insomma, c'è tutta la plastica. Avete capito? Quella che si agita è l'acqua micellare bifasica della Garnier. E questo è il maxi formato. Felicissimo e dir poco. Di cosa spendo per il bagno schiuma, crema doccia e cose varie? Della CN mi ha mandato Oriental Blossom Shower Cream. Non ho sentito il profumo, sicuramente mi piace, insomma, questo qui ve lo conoscete. Tutto bello impacchettato con... Io l'avevo ordinato... Eh no, continuo con me. Monique, il detergente. Anti-aging. Melograno. Niente, io l'adoravo, l'ho finito. E ovviamente per quello che costa in Italia e quello che lo pago qui, insomma, ovviamente mi ha fatto questo magnifico regalo. Eos, va bene. E questi per il giorno li uso anche se non sono la mia passione. Ma i campioncini, guardate... Guardate i campioncini. Allora... Sisleya. Sisleya. Ma per dirvene qualcuno eh? Vichy. Bruscoven. Gauth milk body lotion della Zahiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiae Sì, ho buttato un Sisleya, crema per il collo. Lei capisce che io qua. Sempre Sisleya, crema botanica, ristoratrice, crema non lo so di che cosa, io di più non Ester Lauder, Sisleya, Netto Yant, Sisleya Anti Aging Concentrate, No, guardate, campioncini eccezionali, Vichy, Vichy, Collistar, la crema rivetalizzante contorno occhi, Vabbè, poi c'è anche un profumo perché Olimpia di Paco Rabanne, perché le avevo chiesto di... C'è la crema Gianduiosa Gourmand Body Masturizer, l'emulsione 40 Mosquetas, Concentrate di Ossitana, il Mic Concentrate, l'Egyptian Magic che io uso, A proposito, faccio una pozione per chi vuole e ha un contorno secco, un po' di Egyptian Magic, un po' di gel d'aleo, si mischia, si fa un pottino, meraviglioso come contorno occhi per chi ha il contorno occhi secco. Veleda, questo qui non lo so che cos'è, lo capirò solo leggendo, Si sleia, de maquillant, amore mio, amore mio, si sleia, si sleia, si sleia, Idealia, Vichy, Vichy, L'Ossitane Boom, è qua che mi ha colguito un biolet di latte detergente struccante che poteva anche cadere, perché io l'avevo ordinato e ho finito il Bronze Goddess, mi è arrivato il nuovo Bronze Goddess. A essere sincera, il tappo cambia e non so se è cambiata, cucù, se è cambiato anche qualche cosa. È ottimo, sento meno il latte di cocco, però questa è la mia estate, io sono in vacanza, meraviglioso, c'è qualche altra cosa che mi ha mandato. Ecco che c'era questo Lush Boost di Catrice, è un serum Lush Growth Overnight, al 18% di crescita, perché volevo comprare un'altra cosa che non riuscivo a comprare con Paypal e niente, lei ha pensato di prendermi questo, lo sto già usando, ecco perché non ce l'avevo qui a portata di mano, di là, e anzi se qualcuno l'ha usata mi fa sapere, lo sto usando da 5-6 giorni, a un paio di... insomma va bene, 6 mesi, ok, Made in Italy, vediamo se funziona, ok, questo me lo dimenticate, chissà quante altre cose. Vabbè le medicine che mi ha mandato mio fratello, le mie scorte di medicina, madonna tutti questi campioncini sono tanti, che cosa mi ha mandato? Stupida, la lacca a cielo alto, che desideravi, la lacca volumizzante. No, non ci faccio una figura di scelte perché è tanto. Ho fatto recentemente, avevo finito e non potevo, mi piace proprio, c'era una persona che viaggiava via aeroporto e mi sono fatta ricomprare le Clutton Sir di Sisley, di Sisley, scusami, non Sisley, e niente, non ne posso fare a meno. Che cosa ho comprato? Poi ho comprato l'uriage, l'acqua termale, che credetemi, e c'è ancora la pratica. L'uriage, l'acqua termale, è una cosa meravigliosa. Mamma mia, questa è buona proprio. C'erano delle altre cose, cose di affetto, ma che cosa c'era? Non lo so, non mi ricordo. Comunque, non veloce, perché oggi sono libera. Libera, sì, perché la gioia a cena, e oggi l'ho rimesso, la gioia a cena con dei cinesi, oggi l'ho messo. Ma ricordate la mia collana IP? Ecco, l'ho messa. E fra le cose nuove che non conoscete, sì, Ah, c'ho degli occhiali, sì. Però ho più questi occhiali da vista, in titanio, leggerissimi, flessibilissimi, meravigliosi, mi piacciono molto perché... Sì. Boh, io credo nient'altro. Che cosa c'ho? Ah, aspettate, faccio una paura. Eh sì, ho dimenticato qualche cosa, però, vabbè, cosa è stupido. Ho preso un anello, tanto per... perché mi mancava un anello così. E poi ho preso questi orecchini e non mi ricordo. Adesso ve li faccio vedere indossati, sono importanti, eh. Insomma, vabbè, sono questi. perché ho degli anelli di questo celestino qui, che sono veramente carini. Vediamo se riesco. Sì. bellini, eh. Bellini. Ve ne faccio vedere uno solo. L'altro giorno ho spolverato una parte di quelli, adesso devo rimetterli a posto. Ecco, questi anelli ho preso così, però ho preso altre cose. No, ho preso... Sì, ne faccio un'altra un prossimo giro. Ho comprato... Ho comprato delle scarpe. Senza fare il cambio di stagione, ho scoperto di averle comprate simili anche l'anno scorso, ma sono di serpente. La foggia è un po' diversa, ma insomma, va tutto bene. Secondo me mi sono dimenticata di qualche cosa, ma non fa niente. Vi bacio, vi ringrazio. Ringrazio tantissimo tutti. Un sacco di gente si sta iscrivendo. Prima arrivava la notifica delle iscrizioni, quindi sapevo. Ma un giorno sono andata a vedere il canale e ho trovato 500 più iscritti, non lo so. I pollici che aumentano in su, e di questo vi ringrazio. Per cui... Niente. Io e la mia estate, con le mie amiche qua, c'è anche un'altra di voi, un'iscritta qui. Forse posso fare il nome. Caterinetta. Ed ecco la mia iscritta! Caterinetta 100. 100. Allora... Facevo i video un tempo, ma non li faccio più. E perché? Perché non li guardava nessuno. video di recensioni cinematografiche. Che bello! Ehi, Barbisanax, ti dovi fare la sissa del Barbisanax. Ciao, Marta. Ah, Marta, ciao, se vedi. Allora, finalmente, grazie a Caterinetta. Fran Florence, with love. Yeah! E... Ce l'ho anch'io, le... come si chiamano? Le seguaci... No, il saponetto è da Firenze, però. Sì, artigianale fiorentina. Sì, artigianale fiorentina. che è un canale. Ah, no! No, e la Giovanna non sa usare delle cose, però c'è l'altra, c'è la Gigo che le fa sapere. Quindi, niente, baci. Baci. Noi continuiamo con le nostre chiacchiere. Saluta. Ciao, Barbie! Venite a Shanghai, perché è bellissima. Venite a Shanghai. Venite a Shanghai. A trovare, chiaramente, Anna Rosa. E portatemi il caffè. Ah, è allegra. Che dorme, se la dorme. Sì, se la dorme. Baci, ciao! Mi fa piacere. Mi fa piacere. Come se fossi dietro l'angolo. Sì, vi devo parlare, vi farò un video sui... L'avevo promesso, un video sui tools, gli attrezzi che uso come skin care. L'avevo promesso che l'avrei fatto. Sono troppo tagliata, però, insomma. Io posso anche abbassare. Vediamo un po'. Ecco, posso anche abbassare. Perché ho questo affare che... Ok. Quindi, un bacio. Vi ringrazio. Buon'estate. Buona... Buon giugno. Buon tutto. Baci. Ciao. Ah, posso chiudere. Chissà se posso chiudere il video. Ciao! Ciao. Ciao. Ciao! Grazie.